Piscina Terranova a Vittorio in comprensione e divergenza all'interno della giunta per il sindaco Nicosia la proposta di acquistare la piscina lanciata da Gurrieri e Tardipo. L'aeroporto di Comiso tanti dubbi dopo la proposta del presidente dell'Enac Vitorrigio sulla gestione dello scalo alla regione. Ragusa fissata per venerdì pomeriggio al comune la conferenza dei sindaci al centro del dibattito la vicenda Muos e i piani attutivi dell'Asp. Vittorio ha oggi celebrato il 405esimo anniversario della città. Prima una messa nella Basilica di San Giovanni poi una deposizione di fiori sulla tomba di Vittorio Colonna. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Finuse. In apertura di questa edizione ci occupiamo della piscina Nino Terranova di Vittoria. A proposito delle sorti della struttura sportiva, il primo cittadino Giuseppe Nicosia è intervenuto respingendo la proposta di acquisto della struttura avanzata dall'assessore Piero Gurrieri in quanto non più percorribile ha dichiarato il primo cittadino. Dunque è emersa qualche incomprensione tra l'assessore e il sindaco. Ma sentiamo il servizio. La proposta di Gurrieri sull'acquisto della piscina arriva con due anni di ritardo. Questo è il commento del sindaco di Vittorio Giuseppe Nicosia sulla proposta lanciata dall'assessore Gurrieri a proposito del futuro della piscina Terranova. La strada dell'acquisto della piscina continua a Nicosia. È la proposta che abbiamo fatto due anni fa insieme all'assessore Garuano e che è stata respinta dal liquidatore. Oggi non è più sostenibile perché questa sciagurata risposta negativa in ordine alla nostra proposta di acquisto ha fatto sì che in questi due anni ulteriori danneggiamenti si siano verificati nella piscina e si sia ulteriormente deteriorata la struttura per cui il Comune non è certamente disponibile a sborsare le doppie somme necessarie da un lato all'acquisto di qualcosa che è già suo e dall'altro per ripristinare la piscina tantomeno poi per darla ai privati. Non si possono spendere somme pubbliche per darla ai privati. Quindi apprezzo lo sforzo dell'assessore Gurrieri ma ripeto arriva tardi. La strada che intende percorrere il Comune è quella di gestirla assumendose negli oneri di manutenzione e gestione e consentendo poi a bambini e genitori disagiati l'accesso gratuito nella piscina. Certo che a sentire le due dichiarazioni emerge qualche incomprensione tra i due amministratori, Gurrieri e Nicosia che durante le riunioni di giunta evidentemente non si sono confrontati sulla vicenda. E torniamo ad occuparci dell'aeroporto di Comiso. Dopo la proposta del Presidente Nazionale dell'Enac Vito Riggio di far gestire lo scalo alla regione siciliana sorgono alcuni dubbi sul futuro dell'importante infrastruttura che rischia di essere declassata con il rischio anche di svolgere un ruolo marginale e di scarsa attrattiva per le compagnie aeree. La gestione dell'aeroporto di Comiso alla regione è una scelta opportuna. Il Presidente Nazionale dell'Enac Vito Riggio ha lanciato la proposta che sia proprio la regione a gestire lo scalo almeno per i primi anni. Riggio spiega che i 4 milioni e mezzo messi a disposizione dal governo palermitano potrebbero non bastare per garantire i servizi di assistenza al volo dello scalo o comunque sarebbero sufficienti solo per i primi due anni. Riggio ha lanciato la proposta di utilizzare un sistema più conveniente di assistenza al volo denominato AFIS che però non è gradito da alcune compagnie aeree. Insomma per il numero 1 dell'Enac in un periodo così difficile lo Stato non potrebbe garantire la gestione così come anche il Comune di Comiso o un eventuale partner privato. Dunque che fare per evitare che la struttura rimanga ancora una cattedrale nel deserto? Per Riggio meglio che sia la regione a guidare l'avvio o che si cerchi sul mercato qualcuno pronto a gestirla. Ma alcuni interrogativi sono d'obbligo. La scelta di far gestire alla regione l'aeroporto di Comiso penalizzerà lo scalo? Sarà declassato ad aeroporto regionale depennato dalla lista dei cosiddetti aeroporti di servizio dove era stato recentemente inserito? Ed ancora la società di gestione La Soaco che ha all'interno del proprio GDA esponenti della SAC di Catania sta valutando in maniera opportuna questa possibilità. L'impressione è che a qualcuno non interessi far partire lo scalo casmeneo o comunque mantenerlo con un traffico di passeggeri esiguo visto che per i primi due anni si fa una stima di neanche un milione di passeggeri. Intanto, in attesa della firma della Convenzione per i Servizi di Assistenza al Volo tra Regione e Ministero e Nexoaco non c'è nessuno che ha lanciato un grido di allarme per i seri rischi che sta correndo lo scalo casmeneo che tra un ritardo e l'altro stenta a decollare. Conferenza dei sindaci nel programma venerdì prossimo a Ragusa all'ordine del giorno del piano sanitario dell'Aspe e la vicenda delle MUUS. Il MUUS è la sanità iblea al centro della prossima conferenza dei sindaci che si svolgerà venerdì 27 aprile alle 17 presso la sala giunta del comune di Ragusa. Inizialmente erano state fissate due riunioni della conferenza dei sindaci che erano state già convocate entrambe alle ore 12 nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 aprile con all'ordine del giorno rispettivamente il parere sui piani attuativi aziendali dell'Aspe e la presentazione dello studio dell'ARPA Sicilia sulla stazione MUUS di Niscemi. Per quanto riguarda proprio quest'ultimo punto i sindaci dei comuni blei avevano chiesto all'Agenzia regionale protezione ambiente una relazione sulle possibili conseguenze delle potenti antenne satellitari della Marina Militare Americana in via di installazione a Niscemi. Secondo uno studio dei professori del Politecnico di Torino Massimo Zucchetti e Massimo Coraddo infatti le radiazioni delle antenne potrebbero causare danni all'ambiente e alla salute dei cittadini con un possibile insorgere di patologie come tumori, cadarratte e addirittura alterazioni del DNA. Dunque, visto la delicatezza della questione, i primi cittadini vogliono vederci chiaro anche se alcuni come per esempio Vittorio e Modica hanno aderito ai comitati spontanei mentre altri come Di Pasquale e Dalfano hanno per adesso glissato sulla questione. Passiamo adesso alla cronaca, un arresto e quattro denunce da parte dei carabinieri di Vittoria impegnati in una serie di controlli sul territorio. Ma sentiamo i particolari in questo servizio. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Vittoria Daniel Cavallo, un diciannovenne vittoriese. Il giovane accusato di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente, Cavallo incensurato, sottoposto a perquisizione prima personale e poi domiciliare durante un controllo operato nella frazione di Scogliti, è stato trovato in possesso di 6 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana e di 23 semini della stessa sostanza. Il ragazzo è stato immediatamente arrestato e associato al carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, nel corso di alcuni controlli incontrati a Macconi, sono state deferite in stato di libertà quattro persone. Si tratta di un 48enne vittoriese, pluripregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L'uomo è stato sorpreso alla guida della propria ape Piaggio mentre trasportava rifiuti ferrosi senza le prescritte autorizzazioni. Il 48enne è stato inoltre trovato in possesso senza valida giustificazione di chiavi alterate. La seconda denuncia è scattata nei confronti di un comissano del 76, commerciante, poiché a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana e di 47 cartucce calibro 22 per carabina. Denunciato anche un tunisino, classe 1982, residente ad Akate, pregiudicato, l'uomo è stato sorpreso alla guida di una Peugeot 406 senza patente di guida perché mai conseguita. Infine, un albanese di 30 anni, residente a Comiso, pregiudicato, è stato denunciato perché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a sterramanico e di un bastone di genere vietato dei quali non sapeva fornire alcuna giustificazione. Denunciato poi alla prefettura di Ragù, son vittoriese di 14 anni, residente ad Akate, perché sottoposta a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente di tipo marijuana. E sempre i carabinieri di Vittoria, nel corso di una serie di controlli sul fronte della circolazione stradale, hanno elevato 25 contravizioni per violazione al codice della strada, hanno decurtato 20 punti dalle patenti di guida e sequestrato 3 auto per mancanza di copertura assicurativa. E ci spostiamo a Modica, due arresti per furti e due denunce sono invece il risultato dell'operato dei carabinieri della città della Contea. Arrestati due giovani dai carabinieri della compagnia di Modica, si tratta di un italiano 19enne e di un albanese 17enne. L'accusa per entrambi è furto in concorso. Intorno alle 14 di ieri i carabinieri, a seguito della denuncia del furto di uno scooter 50, hanno predisposto alcuni posti di blocco lungo le strade che conducono a Ispiche e a Scicli. Dopo pochi minuti i militari dell'arma impegnati a Scicli hanno notato uno scooter scortato da un'auto, un Alfa 147, che alla vista dei carabinieri hanno tentato di scappare. Subito raggiunti i militari hanno poi proceduto al controllo dei mezzi, appurando che si trattava dello scooter rubato. Il 19enne alla guida dell'auto, già noto alle forze dell'ordine, si trova adesso ai domiciliari in attesa della convalida del fermo, mentre il 17enne è stato portato al centro di accoglienza per minorenni di Catania. I carabinieri di Modica hanno inoltre deferito il stato di libertà un trentenne argentino per lesioni personali colpose. L'uomo è il trapezista del circo Città di Roma, in questi giorni a Ispica, teatro domenica di una tragedia sfiorata. Uno dei trapezisti, durante uno spettacolo, è infatti rimbalzato a terra dopo essere atterrato sulla rete, sbattendo la testa a terra. Il trapezista, che non ha afferrato il collega durante il numero circense, è stato dunque denunciato. Infine, Ninella Azzarelli, ex consigliere comunale di Pozzalo, nelle file dell'MPI, da poco transitata nel PSI, Asporto denuncia contro i gnoti perché ha ricevuto un miglietto contenente due parole ingiuriose. Continuiamo ancora con la cronaca, riunione tecnica di coordinamento interforze, presieduta dal prefetto di Ragusa, Giovanna Cagliostro. Nel corso dell'incontro si è svolto, tra l'altro, un particolare approfondimento sulla situazione del comune di Pozzalo, anche alla luce dei recenti episodi criminosi che hanno riguardato il Palazzo Municipale, per i quali sono stati previsti i doni e i dispositivi di vigilanza. Dopo ampio approfondimento, il prefetto ha disposto all'ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio per la maggiore prevenzione di eventuali fenomeni, che possono incidere sulla sicurezza pubblica, con particolare attenzione a quelle realtà comunali, interessate da eventi o manifestazioni di pubblico rilievo. Sono passate diverse settimane dal ciclone Atos, ma si parla ancora dei danni provocati dal maltempo. Questa mattina c'è stata una riunione proprio in prefettura per stabilire gli interventi da porre in essere a seguito dell'esondazione del fiume di Rillo. Vediamo com'è andata in questo servizio. Riunione stamane in prefettura a Ragusa per parlare ancora dei danni provocati dal miniciclone Atos. Presenti il prefetto Giovanna Cagliostro e gli amministratori del comprensorio Epparino e Ibleo, che hanno focalizzato l'attenzione sugli interventi da realizzare a seguito dell'esondazione del fiume di Rillo nel territorio di Acate. Il miniciclone, lo ricordiamo, ha colpito la nostra provincia il 9 e il 10 marzo, provocando ingenti danni non solo nelle città, ma soprattutto nelle campagne. Svariati milioni di euro di danni denunciati dai coltivatori Iblei, molti dei quali sono usciti completamente distrutti da quanto accaduto. L'incontro di oggi è servito per fare il punto della situazione a distanza di quasi due mesi dal miniciclone e per definire utili e tempestivi interventi con particolare attenzione per i territori invasi dall'esondazione del fiume di Rillo. Presenti anche alcuni agricoltori della zona che hanno subito danni e che lamentano però disattenzione da parte degli amministratori. La situazione è proprio disastrosa e nessuno prevede un evento di questo. È stato dato il stato di allerta che sulla provincia di Catania arrivava questo ciclone, ma cosa è stato fatto sulla diga? Non hanno fatto niente. Uno ha una vita che fa tanti debiti a pagare, che ha tanti sacrifici e a colpo si trova senza niente. È l'istituzione che stanno facendo. Noi stiamo facendo lotte, facciamo casino, facciamo sempre lotte, minacciamo di andarci a legare perché nessuno ci ha aiutato. I debiti arrivano, arrivano alla sede, ci hanno promesso tante cose. Nemmeno vogliono aggiustare e allargere dei fiumi. Cosa dobbiamo fare noi? A conclusione dell'incontro di questa mattina in Prefettura, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ha reso noto che la prossima settimana si concluderà l'intensa attività istruttoria che ha riguardato oltre 1.900 aziende per l'erogazione di contributi economici a titolo di risarcimento per i danni occorsi sia alle strutture sia alla produzione. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile invece nell'ambito delle proprie competenze ha ottimato una serie di accertamenti in vista del reperimento di fondi regionali da destinare alla messa in sicurezza e alla realizzazione di interventi manutentivi di porzioni di territorio in sinergia con i comuni interessati. Richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Modica al GUP a carico delle sei persone denunciate per reati mentali nell'ambito della vicenda che riguardava lo smaltimento illegale dei detriti dei tre scheletri dei palazzi popolari di contrada a treppiedi a Modica abbattuti con l'esplosivo lo scorso 4 settembre a seguito dell'abbattimento delle tre strutture in cemento armato di treppiedi erano state prodotte diverse tonnellate di macerie che dopo le fasi di deposito temporane avrebbero dovuto essere smaltite in impianti autorizzati ma dalla indagine della Polizia Provinciale di Ragusa si accertò che la gestione dei materiali di risulta e rifiuti speciali inerti non avvenne secondo le modalità di legge e ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria torniamo tra poco pausa pubblicitaria per un'esplosivo che si era infosivo e quando si accera che si accera